Buonasera, sono Laura Antichi Andremo ora a costruire in questo ambiente OpenSim Una vasca per idromassaggio Clicco sul terreno Vado in Crea Creo un cubo Questo è il mio cubo Adesso vado a modificarne le dimensioni Modifica Quindi le dimensioni sono quelle della X Della Y e della Z Andremo a dare come dimensione 1 Facciamo invece di 1 8 Vediamo quanto viene grande Poi per la Y 8 E per quanto riguarda la Z Aspettate che mi sposto che ve lo faccio vedere Lo lascio per il momento immutato Perché mi servirà Poi lo duplico Con il tasto Shift Ne creo un altro Quello in basso lo faccio un tantino più ampio Quindi invece è di 8 Lo farò di dimensioni 10 Appunto 0,0 Vediamo Viene un po' più grande Così per quanto riguarda la Y 10 Appunto 0,0 10 Metri Su questo appoggerò Quindi fa una sorta di gradino Appoggerò quello che ho costruito Duplicato sopra Ecco qui Do luminosità massima per distinguerlo un attimo Per i colori Dopo vedremo di dare una texture Vado ora a duplicare anche questo Con il tasto Shift E lungo L'asse che vedete a blu Duplico ancora Un altro Allora questo mi costituisce la base della piscina Questo intermedio mi andrà a costituire quella che è la piscina La piscina stessa e quindi Questo parallelepipedo lo scavo Quindi vado in caratteristiche Oggetto In oggetto Vado a creare un foro Il foro lo creo quello di default Vedete che ho scavato Ok Il foro E vado ad abbassare Il mio Cubo scavato Sul parallelepipedo Sul parallelepipedo A base Ora Questo parallelepipedo De Che Devo ancora Lo resetto Cioè Non lo resetto Ma ne cambio le dimensioni E lo farò Invece di 8 Lo faccio 6 6 No Facciamo 7 E E La Y Di 5 Ok E lo vado a inserire Dentro E Ancora Lo devo ancora Però Modificare Di più Do un colore Per vedere Meglio In texture Per vedere Maggiormente Ok Cosa vado facendo Perché Sono blocchi Tutti di un unico colore E Vedo che non è delle dimensioni Propriamente Esatte Rispetto Al foro E Quindi Lo vado a Modificare Sempre In oggetto Invece Di fare La 7 Faccio 8 Vediamo come viene Con 8 La X 8 Ok E La La X Facciamo 7 Vedete Che 7 è troppo Quindi Facciamo 6 Appunto 5 6 Punto 5 Invio Così Credo Che Dovre Si incastra Molto bene Ecco Lo incastro Dentro Quindi Questa Struttura Che ho Preparato Per La Vasca Penso Ora Che Siccome La Vasca Risulta Piuttosto Alta Di fare Un gradino E Quindi La parte Inferiore Della Vasca Che Mi Costituisce La base La Vado Allargare Quindi 8 Faccio 9 Metri Per quanto riguarda La Dimensione Della X Quindi 9 8 E Y Insomma 8 Netto 8.0 8 La Y 8.0 La Y Quindi L'accesso Al Così Alla Vasca Dovrebbe essere Facilitato Però Agisco Ancora Sulla Z Per Sulla Z Per Abbassare Ancora Di più Per schiacciare Ancora Di più Il Bordo Credo Che Sia Meglio Schiacciare Un attimo Il Bordo Con la Z Invece 0.5 Faccio 0.4 E Invio Per Dare Un Accesso Migliorare L'accesso Della Struttura Allora Come vedete Ho Costruito Questo Edromassaggio Posso Allargare La base Perché Mi sembra Decisamente Troppo piccola E quindi La base La Porto A 12 Per quanto riguarda La La X Per quanto riguarda La Y Pure 12 Così Lo facciamo Questa Uguale Potrei fare 13 Visto che Non era esattamente Rettangolare Cioè Quadrangolare E Facciamo 12 Comunque E dopo Andremo a modificare Se non Ci piace Ecco Questa È la Vasca L'idromassaggio Ora Abbiamo Tutto un lavoro Con le texture Da fare Nel senso Che il basamento Questo basamento Dell'idromassaggio All'aperto L'idromassaggio Quindi All'aperto Andiamo a dare Una texture E la Scegliamo La texture Nell'inventario Vediamo Adesso Che cosa Possiamo trovare Nell'inventario E Potrei fare Un Vediamo Mattoni Ho a disposizione Questi mattoni Do Il colore Lo lascio Di base Lo lascio così Qui però Do Una luminosità Massima Poi Vado A Definire La base È Il primo gradino Il primo gradino Vado A cercarmi Una texture Per il primo gradino E Scelgo Un altro tipo Di Mattoncini Che possono Andar bene Questi La luminosità È massima Però Lo lascerei Anche scuro E In effetti Do Lo stesso Al bordo Della vasca Però Al bordo Della vasca Posso dare Lo stesso Mattoni Mattoni Si Fare dei mattoni E qui Dare la luminosità Massima Ai mattoni Della vasca Il Poi All'interno Ho La parte Che mi riempie Lo spazio E Questa parte La Che ho Poi colorato Per Praticità Di un colore Poi Vedremo Azzurino Verdino Vado Invece A mettere una Texture E Texture Dovrei trovare Qualcosa Ecco Un'acqua Vediamo L'acqua 3 L'acqua 2 L'acqua 1 Prendiamo L'acqua Vabbè Prendiamo L'acqua 1 E Il colore Vediamo Se viene meglio Con il bianco Ok Viene molto bene Con il bianco E quindi direi Di Visto che è un idromassaggio Lasciare L'acqua In questo modo Ora che abbiamo Inserito La Texture Acqua Ok Quindi Inserita Andiamo In Acqua Ad animare Questa acqua Vado dunque In contenuto Dell'oggetto Nuovo script E Inserisco Questo script Per dare movimento All'acqua Come vedete Mi da L'animazione Dell'acqua E Adesso lo andiamo a salvare Questo script Mi dice che la compilazione è riuscita Ok E vedete Quindi che ho raggiunto il mio obiettivo di animare l'acqua Ora Ora quello che devo fare è di unire tutti gli oggetti che ho predisposto Magari se non mi piacesse potrei anche qui invece dei mattoni mettere dell'erba Se è all'aperto Ad esempio vado a modificare Info Modifica Così vediamo La funzione Modifica Andiamo in Texture Andiamo a cambiare Vediamo se troviamo qualcosa che possa essere costituire ad esempio una migliore localizzazione della vasca in un ambiente ad esempio erboso Vediamo questo Ok Dopo aver fatto questo Magari cambio anche la texture del primo gradino Vado in Modifica Vado a modificare questa texture Possiamo farla anche di legno volendo ma non è dando magari una luminosità massima Ok può andare anche il legno oppure comunque i mattoni qui forse è anche meglio fare a mattoni Ok E E poi vado adesso a collegare le varie parti che ho così definito E innanzitutto Seleziono l'acqua L'acqua Poi con lo shift Seleziono il bordo Seleziono un po' per volta Per essere sicura di collegare tutto Faccio collega Questi due elementi Alzo il tutto E vediamo che abbiamo poi la base Questa base mattoni Seleziono la base mattoni Seleziono la base mattoni E poi anche il prato Collega Collega Poi vado in Modifica parti collegate E trascino in basso Clicco su La prima parte collegata Trascino in giù Trascino in giù Questa parte Poi l'acqua E riposiziono il tutto Così ho raggiunto il mio obiettivo Di costruire una vasca Che All'aperto Di idromassaggio Come si può vedere Adesso lo vediamo Tutto è collegato Quindi abbiamo una struttura unica Infatti tolgo ora Modifica parti collegate Le ho già sistemate E la mia vasca Con il prato Vedete che fa Un oggetto Unico Ora potrei anche abbellire I bordi della vasca Aggiungendo Esempio delle sedie Quindi vado in inventario Circo Circo tra i miei oggetti Sedia Tutti gli elementi Vedete che Trascino una sedia qui Per esempio La giro Con il control La ruoto Questa sedia Quindi la seleziono Con il destro del mouse Vado in modifica Con il control La vado a girare Verso la vasca Poi magari Me ne creo un'altra Utilizzando La funzione della copia E quindi dello shift Con lo shift Duplico Facciamo un'altra ancora Ok Posso poi introdurre Anche altri elementi Attorno A questa vasca Ad esempio Posso cercare Nel mio inventario Se ho qualche albero Pianta Ho trovato Un albero di scicco Metto un albero di scicco Qui Per esempio Ok È bello grande Quindi Lo riducco Con il control Shift Cliccando Sull'oggetto Vado in modifica E posso Rimpicciolire Questo albero di scicco E lo vado a sistemare E lo vado a sistemare Vicino Al Al Bordo Della Della Dell'idromassaggio Ecco Questo Quindi Come potete vedere Ecco È L'idromassaggio Che ho creato Posso spostare Naturalmente indietro Tutte Quante Le strutture Col modifica Ecco Spostato le seggioline indietro Adesso Mi posso anche sedere Vedere Beh Intanto giro Vado a vedere Se tutto è a posto Sì No C'è qualcosa che Non va qui Quindi Devo spostare Un attimo L'acqua Come vedete Deborda Quindi Vado in modifica No Per farvi vedere Che comunque Le cose Vanno sicuramente Poi riviste Modifica E vado Modifica Parti collegate E Vado A Spostare L'acqua Magari Vado a Ridefinire La Questa acqua Nelle caratteristiche Nella Nell'oggetto Vado A Definire Invece D8 Anche qui Magari 6 Per quanto riguarda Le dimensioni In metri Della X Quindi 6 E Vediamo Che Ho rimesso A posto L'acqua Ma è ancora troppo piccola Quindi Io Modificherei Il Poi La La dimensione Della Y L'illipsino Almeno a 7 Vediamo Come viene con Il 7 No Il 7 È andato Non è stato proprio Il 7 Quindi Invio 7 È ancora Troppo poca La dimensione Del 7 Quindi vado A L'illipsino La vado a fare 8 Vediamo Come viene con L'8 E Bisogna Continuare a Modificare Finché Non Si trova Il Posizionamento Ma L'8 E Ecco L'8 La dimensione Dovrebbe essere Giustamente Calcolata Ok Questa Quindi È la vasca Mi posso Chiudo questa finestra Quindi Ho rimesso a posto il tutto Quindi Guardate sicuramente Da una parte E dall'altra Della Della vasca Per vedere se tutto È andato Per il meglio E poi Sistemate Gli oggetti Che avete Inserito Allineandoli Meglio E questo Lo potete fare Soltanto Girando Attorno All'oggetto Stesso E poi Avete finito Questo lavoro Chiudete la finestra E vi Potete anche sedere Davanti All' L'idromassaggio E questo Ci comporta anche di Portare altre modifiche Altro Come vedete Altre modifiche Vado in modifica Parti collegate E di nuovo Devo Quindi andare In modifica Parti collegate A Rimodificare Ulteriormente Le Dimensioni Poi Della 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 mia Metto un set Qui Della mia Vasca Ecco È tutto Adesso Dovrebbe Essere Tutto Perfettamente Funzionante Questo Magari Lo Appure Ingrandisco Qualcosa Di Più Rimpicciolisco Questo Modifica Parti collegate Quindi 8 Questo 8 7 Va Bene Questo Questo 9 È troppo Facciamo 8 Ok 8 8 8 E In questa maniera Credo di che Possa La vasca Possa Anche Andare Vediamo Di nuovo Ecco Questa è Quindi La nostra Vasca La vasca che abbiamo creato Per l'idromassaggio Posso portare qualche altro ritocco Esempio potrei abbassare il tutto Il prato Esempio Vado in Modifica Parti collegate E Seleziono Il Prato E Lo posso Quindi Restringere O Allargare Oppure Cambiare Insomma Le dimensioni Del Del Prato Come potete vedere Posso anche Il Prato Che è Selezionato Andarlo Ad Abbassare Così Ad Appiattire E Mi sembra Questo Un Miglioramento Posso Aggiungere Poi Dall'inventario Anche Dei Fiori Ho Digitato Margherite Ho trovato Delle Margherite Che posso Posizionare Qui Attorno Attorno Al Bordo Creando Delle Macchie Di Margherite Ecco In questo modo Insomma Ho abbellito Potrei Abbellirla Anche Ulteriormente Il Il Quando Poi Le voglio Spostare Sposto Quindi Ho abbellito Di Nuovo Il Mio Ambiente Posso dare Luminosità Massima Alle Margherite Per Renderle Maggiormente Visibili Posso anche Cambiare Il colore Di Alcune Di Un Mazzo Manca L'altro Mazzo Da Dare La luminosità Quindi Massima E Come vedete Ho Finito Di Creare Questa Vasca Da Idromassaggio Per l'idromassaggio L'altra Non era Ancora Il colore Dell'ultima Ecco Luminosità Massima Ecco Che sono Quindi Che cosa Abbiamo fatto Abbiamo Utilizzato Gli strumenti Di costruzione In OpenSIM Creando Una Vasca Di Idromassaggio E abbiamo Animato L'acqua Con uno script Per dare L'idea dell'idromassaggio stesso Ecco